In collaborazione con Glamvision e Caffacli. Energia con il caro bollette addio ad una stalla su 10. Col diretti. Latte Trento ha chiuso un caseificio. L'intero sistema è a rischio se non si interviene subito. E ancora emergenza siccità a Brentonico. Serbatoi caricati con 7 milioni di litri d'acqua. Spegi oltre 60 mila euro per questa attività. L'appello ridurre i consumi. Il bustone di Moena è il miglior formaggio pasta molle a crosta lavata d'Italia. Premiato dall'Italian Cheese Award. Sei un lavoratore autonomo o hai una piccola impresa? Scadenze fiscali, novità normative, fatture e versamenti. Sono molte le cose che possono farti girare la testa e perdere tempo. Non rischiare. CAFACLI ti dà una mano ed è pronto a risolvere ogni tuo dubbio. Grazie ad operatori esperti e con tariffe contenute avrai una consulenza completa anche nelle fasi iniziali. Scadenze fiscali e previdenziali rispettate. Uno strumento per la fatturazione elettronica. Servizi anche online e a distanza. Contabilità sotto controllo ma senza stress? Si può con CAFACLI. Grazie. Grazie.